la mattina seguente cominciamo ben presto il lavoro poiché il trasporto di quella grande massa d'oro per terra fino alla baia e di là per battello fino alla goletta era un lavoro considerevole per un numero così limitato di uomini i tre filibustieri che si trovavano ancora nell'isola non ci inquietavano un granché una sola sentinella bastava ad assicurarci contro ogni attacco improvviso e poi eravamo persuasi che essi ne avessero abbastanza di combattere il lavoro venne quindi spinto innanzi attivamente gray e ben gun andavano e venivano con il battello gli altri durante la loro assenza ammucchiavano il tesoro sulla spiaggia giorno per giorno il lavoro procedeva ogni giorno portavamo a bordo una fortuna ma un'altra era pronta per l'indomani e in tutto questo tempo non avemmo notizie dei tre ribelli superstiti alla fine credo che fosse la terza sera il dottore ed io passeggiavamo sul pendio della collina quando dalla profonda oscurità il vento ci portò un suono tra il grido e il canto seguito dal silenzio dio pertoni loro disse il dottore sono i ribelli sono ubriachi signore suonò dietro a noi la voce di silver devo dire che gli era concessa intera libertà ma che non gli si risparmiavano i rabbuffi giornalieri in verità era ammirabile come egli sapesse sopportare ogni segno di disprezzo e ogni affronto e come con la sua inalterabile cortesia e gli cercasse di ingraziarsi ognuno di noi era tuttavia trattato come un cane tranne che da ben gunn il quale aveva ancora una terribile paura del suo antico quadrimaestro e da me che gli avevo assicurato una certa gratitudine sebbene a questo riguardo avessi motivo più degli altri di giudicarlo perverso avendolo visto sull'altipiano meditare un nuovo tradimento fu quindi abbastanza bruscamente che il dottore gli disse ubriachi o deliranti per febbre avete ragione signore replicò silver ma dopo tutto a voi come a me non importa nulla suppongo che sarebbe difficile pensare che voi possiate comprendere un sentimento di umanità rispose il dottore con un sorriso ironico e così i miei sentimenti vi meraviglieranno silver ma se io fossi sicuro che quegli uomini sono malati lascerai il campo e a rischio della vita porterei loro assistenza vi chiedo scusa signore ma avreste veramente torto replicò silver perdereste una vita preziosa che potreste dedicare a qualche cosa di meglio non vorrei vedere il vostro gruppo cui ora appartengo anch'io indebolito lasciando pur da parte il vostro valore poiché so quello che vi devo ma quegli uomini laggiù non sarebbero capaci di tenere la loro parola e quel che è più non potrebbero credere che voi terreste la vostra no disse il dottore siete solo voi che sapete tenere la parola l'abbiamo visto fu quella l'unica volta in cui avvertimmo l'esistenza dei tre pirati solo un'altra volta udimo un colpo di fucile e supponemmo che stessero cacciando tenemmo consiglio riguardo alla loro sorte e decidemmo di abbandonarli nell'isola con gran gioia di ben gun devo dirlo e con l'intera approvazione di gray lasciammo loro una grande quantità di polvere e palle la maggior parte della carne salata qualche medicamento ed altre cose necessarie utensili abiti tela da vela corda ed infine per particolare desiderio del dottore un bel dono di tabacco fu questo l'ultimo nostro atto nell'isola prima avevamo stivato a bordo il tesoro ed imbarcato la necessaria quantità d'acqua ed il rimanente della carne salata per qualsiasi evenienza un bel mattino levammo l'ancora con la medesima bandiera che il capitano aveva inalberato sul fortino i tre ribelli dovevano averci osservato più d'appresso di quello che supponevamo perché uscendo dallo stretto costeggiamo la punta sud e di là li vedemmo tutti e tre inginocchiati sulla sabbia con le braccia alzate in segno di supplica faceva male al cuore lasciarli in quel miserabile stato ma non potevamo correre il rischio di un altro ammutinamento e d'altra parte riportarli in patria e farli impiccare non sarebbe stato certo render loro un favore il dottore rivolse loro la parola per dire delle provviste che avevamo lasciato loro e per indicare il posto dove le avrebbero trovate ma essi continuavano a chiamare per nome ciascuno di noi supplicandoci per amor di dio di aver pietà di loro e di non lasciarli morire lì infine vedendo che la goletta continuava il suo cammino e ormai eravamo fuori di portata dalla voce uno di loro non so quale salzò in piedi con un rauco grido spianò il suo fucile e ci inviò una palla che passò fischiando sopra la testa di silver e traversò la gran vela dopo di ciò ci tenemmo riparati dietro i parapetti e quando guardai fuori di nuovo essi non erano più sul promontorio ed il promontorio stesso non si scorgeva quasi più era la fine di tutto e prima di mezzodì con mia inesprimibile gioia anche la più alta cima dell'isola del tesoro era scomparsa dalla nostra vista eravamo così scarsi di numero che ciascuno a bordo aveva da lavorare molto solo il capitano stava coricato a poppa su un materasso dando i suoi ordini poiché sebbene assai migliorato aveva ancora bisogno di cure e di riposo facevamo vela verso il vicino porto dell'america spagnola perché non potevamo iniziare il viaggio verso la patria senza rifornire l'equipaggio e ben prima di arrivarvi fummo messi a dura prova dai venti contrari e da un paio di burrasche era il tramonto quando potemmo al fine gettare l'ancora in una bella baia contornata da terre e fummo circondati da battelli carichi di negri di indiani di mulatti che venivano a venderci frutta e legumi e che offrivano di tuffarsi per una moneta la vista di tante facce allegre specialmente quelle dei negri il sapore dei frutti tropicali le luci che cominciavano a brillare nella città facevano un gradevole contrasto con il nostro triste e tragico soggiorno nell'isola lo squaire e il dottore conducendomi con loro scesero a passare a terra una parte della notte incontrarono il capitano di una nave da guerra inglese incominciarono a chiacchierare con lui e si recarono a bordo della sua nave in breve il tempo passò così gradevolmente che albeggiava già quando ritornammo sull'ispaniola ben gunnera sul ponte solo e appena arrivamo a bordo cominciò con mille contorcimenti a farci una confessione silver se n'era andato e lui lo aveva aiutato a fuggire in un canotto del porto alcune ore prima e gli assicurava che avrebbe agito così per salvare le nostre vite che sarebbero sempre state in pericolo se quell'uomo da una gamba sola fosse rimasto a bordo ma il cuoco non era fuggito a mani vuote era riuscito a portare via uno dei sacchi di monete in sostanza se eravamo liberati di lui a buon mercato arruolammo alcuni bravi marinai facemmo ottimo viaggio verso il nostro paese e l'ispaniola raggiunse bristol proprio quando il signor blendy preparava la nave di soccorso cinque uomini soltanto ritornavano di quelli che erano partiti con la goletta l'alcol e il cavolo avevano portato via il resto come vendetta tutti avemmo una larga parte del tesoro e ciascuno ne usò secondo la sua natura il capitano smollet ha smesso di navigare e si è ritirato a vita privata gray non solo conserva il suo denaro ma ha preso dalla passione di viaggiare ha fatto carriera ed ora è comandante in seconda di una bella nave ben attrezzata di cui è socio armatore egli si è anche ammogliato ed è padre di famiglia quanto a ben gun e gli spese o perdette la sua parte in tre settimane o per essere più esatti in diciannove giorni perché il ventesimo ricomparve senza un soldo lo squire gli diede allora un lavoro ed egli vive ancora nel paese benché sia lo zimbello dei ragazzi e sia uno dei migliori cantori del coro nelle funzioni della domenica e delle feste di silver non seppimo altro quel terribile marinaio con una gamba sola è uscito dalla mia vita penso che gli abbia trovato la sua vecchia moglie e forse gli vive con lei e il papagallo le barre d'argento e le giacciono ancora dove flint le ha sepolte e certamente possono restarvi in eterno nemmeno con le funi potrebbero trascinarmi ancora in quell'isola maledetta di notte sogno ancora qualche volta e non lo desidero certo di sentire i marosi battere gli scogli e qualche volta mi sveglio di soprassalto perché mi sembra di sentire la voce stridente del capitano flint gridarmi nelle orecchie pezzi da otto pezzi da otto